Una guerra in furia in Ucraina Cristiani per Israele è attiva in Ucraina sostenendo le comunità ebraiche da circa 25 anni. L'antisemitismo tende a riacutizzarsi in tempi di crisi. Come cristiani vogliamo mostrare la nostra solidarietà ai nostri fratelli e sorelle ebrei, specialmente ora, in questo momento di bisogno. Forniamo loro cibo, offriamo rifugi di emergenza e aiutiamo l'evacuazione verso Israele. Ci aspettiamo un grande afflusso di rifugiati e avremo bisogno di ogni tipo di aiuti di emergenza. Ogni preghiera conta, ogni donazione aiuta. Ti unirai a noi. Sostieni la nostra campagna di emergenza oggi stesso con la tua donazione. Grazie a tutti.